Un cordiale saluto e rieccomi qui all'appuntamento col meteo di TV6. Per questo lunedì si prospetta l'arrivo di un'altra perturbazione di stampo atlantico. Questa porterà delle piogge e dei temporali prima al nord ovest della Sardegna, il medio alto tirreno, dopodiché dalla sera questi fenomeni si estenderanno anche al centro Italia. Poi tra martedì e mercoledì altro mal tempo che riguarderà in modo più diretto l'Abruzzo e con le regioni del centro-sud in generale. Vediamo il focus sull'Abruzzo, avvio di settimana nel complesso stabile, avremo cieli sereni o velati al mattino, poi nubi in graduale aumento tra pomeriggio e sera, nubi alte, quindi senza grandi rischi di maltempo. Comunque in serata potrebbe arrivare qualche pioggia sull'Apennino, sull'Aquilano, la Marsica, fenomeni deboli o tutt'al più moderati. Il maltempo diventerà un po' più incisivo nella giornata di martedì. Temperature aumentano ulteriormente e le massime anche a ridosso dei 25 gradi. Con questo concluso ci rivediamo nel prossimo aggiornamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.